15 anni! Hai sempre la stessa macchina? Beh sì, funziona bene. Squadra che vince non si cambia. Dove ti porto? Questo è l'indirizzo. Sin giù, qua, il quartiere caldo. Dieci troie per metro quadro. Sì, direi che non sei venuto per questo. Sì, direi che non sei venuto per questo. È di là! Ehi, hai verso il pelo ma non il vizio. Ti lascio cinque minuti e te ne sei già rimorchiata uno. È la figlia di Mico, cretino. In teoria è anche la mia. Ne sa bene. Come? Cioè, io non sapevo che avevate una figlia così ben messa. Sì, nemmeno io. Allora, tu ci segui a distanza e a bocca chiusa. Cazzo, ora sì che siamo nella merda. Tieni, dammi il tuo telefono e fai analizzare questo. Cos'è? Se lo sapessi non ti chiederei di farlo analizzare. Ok, per domani va bene. Hai un'ora. Ma cazzo, sono contento che sei tornato. Cazzo, non adesso. Io beh, e io.